Si tende ormai a virtualizzare un po' tutto, perché in questo modo possiamo dividere i servizi quindi fare in modo che eventuali problematiche si presentano sulla nostra installazione server non vanno incidere sull'intera infrastruttura ma solo per quel determinato servizio dividendo questi servizi per l'appunto nel caso in cui ci trovassimo a dover avere un problema con una di queste installazioni una macchina di queste, possiamo facilmente ripristinare la situazione e soprattutto non avremmo un disservizio totale quindi solo quel determinato servizio andrebbe a mancare fino a che noi non procediamo al ripristino Non solo questo, ovviamente ci semplifica anche eventuali operazioni di cambio server, operazioni di ripristino, backup e restore per l'appunto delle macchine virtuali Diverse scole di pensiero su quale software utilizzare per virtualizzare Io personalmente, mia personalissima opinione, a me piace molto Hyper-V di casa Microsoft Perché mi piace Hyper-V? Perché innanzitutto partiamo dal presupposto che solitamente un'installazione di Windows in un'azienda è quasi necessaria per controller di dominio, applicativi che girano solo in Windows e non in Linux Quindi solitamente comunque una licenza di Windows server va acquistata Hyper-V è integrato in Windows server senza bisogno di acquistare licenze aggiuntive Per cui perché non utilizzarlo? Ci dà funzionalità in meno rispetto ad altri software Personalmente non ho mai avuto la necessità di migrare altri prodotti perché magari mancava qualcosa Anzi, vi posso assicurare che ha milioni di funzionalità e funziona anche molto molto bene e anche molto molto stabile Voglio per l'appunto mostrarvi oggi banalmente prima di tutto come si installa Quindi prendiamo una virtual machine e vediamo come si installa E si installa normalmente come un ruolo Quindi andiamo a loggarci nella nostra macchina che ho già preinstallato, nuova, pulita Con Windows server 2019 Andiamo nel nostro server manager e andremo ad aggiungere il ruolo di Hyper-V Andiamo quindi aggiungi ruoli e funzionalità Clicchiamo avanti Andiamo ancora avanti Selezioniamo il nostro server Andiamo a selezionare Hyper-V Aggiungi funzionalità E il server automaticamente installerà tutti i pacchetti Ci verrà chiesto ora quale scheda di rete vogliamo simulare internamente per le nostre macchine virtuali Andiamo a selezionare quindi la nostra attuale scheda di rete Ora non è una Ovviamente nel caso di un server vero avrete sicuramente un nick o un aggregazione di banda Andate a selezionare quella Andiamo avanti Mi chiede se voglio consentire al server di trasferire e ricevere macchine virtuali con Live Migration Lo vado a spuntare E poi magari ci faremo un video dedicato E poi mi chiede Il percorso preferito per le macchine virtuali Per i rischi rigidi Scusate E per la configurazione Lasciamo default per ora Se no mettetelo dove preferite voi Andiamo a spuntare di riavviare automaticamente Per consentirgli di terminare l'installazione E clicchiamo installa Attendiamo quindi l'installazione Ok l'installazione è terminata La nostra macchina si è appena riavviata E avremo quindi il ruolo Hyper-V installato Andiamo quindi in strumenti di amministrazione E troveremo console di gestione Hyper-V E ci troviamo di fronte a questo pannello Vedete Qui posso praticamente innanzitutto Aggiungere qui uno più host Quindi so più server che andranno a ospitare le nostre macchine virtuali Posso andarli a collegare qua In modo che da un'unica console Io possa gestire praticamente tutto Cliccando semplicemente col destro e facendo connetti al server Do il nome dell'altro server Faccio ok Mi verrà aggiunto in elenco Detto questo Qui abbiamo la possibilità Prima cosa di andare a configurare i commutatori virtuali Quindi andiamo in gestione commutatori Vedremo che automaticamente La nostra scheda di rete che abbiamo selezionato durante il wizard È stata creata È stata creata con accesso alla rete esterna Quindi significa che prenderà IP dal nostro server di HCP E condividerà e comunicherà con la stessa classe di rete Che abbiamo nel nostro server host Se andiamo a specificare invece interna o privata Non comunicherà diciamo con gli dispositivi nella LAN Abbiamo la possibilità di Oppure di andare ad assegnare alla nostra scheda Una VLAN specifica Per chi non sapesse di cosa sto parlando Vi lascio un link qui sopra A un video che ho fatto In cui spiego cosa sono le VLAN Detto questo quindi Una volta creati i nostri commutatori Di cui abbiamo bisogno uno o più commutatori Lasciamo per ora quello di default Dovremo innanzitutto andare a creare la nostra prima macchina virtuale Come si fa? Si clicca su un nuovo macchina virtuale E ci appare un wizard di configurazione In cui andremo a specificare il nome della nostra macchina Quindi SRVDC per esempio per il controller di dominio Ipotizziamo Ci chiede se vogliamo spostare il percorso di default Che avevamo scelto durante il wizard Se vogliamo archiviarla in un altro posto Lasciamo standard Andiamo avanti Ci viene chiesto se vogliamo crearla di generazione 1 o 2 La generazione 1 praticamente supporta solo dei sistemi relativi a 32 e 64 bit Come vi riporta anche qui la guida La generazione 2 è solo a 64 bit Il classico firmware UEFI per capirci Andiamo avanti Lasciamo generazione 1 per avere piena compatibilità Con qualsiasi sistema operativo o guest Andiamo a selezionare quanta memoria avrà dedicato il server a questa macchina E se vogliamo utilizzare la memoria dinamica Che significa che non tutta la memoria che andremo a riservare per il nostro server Verrà utilizzata subito Verrà utilizzata solo in caso di evenienza Solo in caso di saturazione Andiamo avanti Ci fa selezionare il commutatore come vi dicevo prima Selezionavo quello di default Andiamo avanti Ci chiede se vogliamo creare un nuovo disco virtuale Utilizzare un disco già esistente O connetterlo successivamente Quindi lasciare la nostra macchina senza dischi Nel caso in cui lo andiamo a creare Vi chiede il percorso Il nome del disco rigido virtuale E un eventuale spazio Attenti perché questo è già allocato dinamicamente Quindi se qui andiamo a specificare un tera La nostra macchina virtuale non occuperà un terabyte Ma potrà occupare al massimo un terabyte Quindi a mano a mano che si andrà a riempire Occuperà al massimo quella dimensione che abbiamo specificato lì Per cui magari mantenetevi un po' larghi Oppure fate i conti in base alla dimensione dei dischi E di quante macchine dovete far girare Andando avanti mi chiede se vogliamo installare Un sistema operativo successivamente Se lo vogliamo installare da unità fisica del server O da immagine ISO Se vogliamo installarlo da un server di installazione in rete PXE magari E faccio fine La nostra macchina viene praticamente creata Qui praticamente in questo pannello Vedremo quindi Lo stato della macchina Se c'è esa o spenda L'utilizzo della CPU La memoria assegnata Il tipo di condizione attuale Se ha problemi o meno Se clicchiamo col testo su una macchina E facciamo impostazioni Avremo delle impostazioni aggiuntive Di questa macchina Possiamo aggiungere dell'hardware Quindi scheda di rete aggiuntive O scheda di rete legacy Attenzione cos'è Un sistema operativo magari un po' obsoleto Non so XP Windows Server 2003 2008 Eccetera Avrà difficoltà a rilevare la scheda di rete Che abbiamo creato inizialmente La wizard O quelle che avete creato dai commutatori Allora vi consiglio di aggiungere Una scheda di rete legacy E andare a selezionare Poi il commutatore Che avevate creato Vedete mi ha aggiunto Una scheda di rete legacy Significa che E dovrò poi rimuovere Ovviamente questa L'andrò a rimuovere E questa sarà Pienamente compatibile Con qualsiasi sistema Memoria Qui come vi dicevo prima Andate a specificare Quanto RAM il sistema può utilizzare al massimo Se vogliamo abilitare la memoria dinamica Gli andiamo a specificare Minimo quanto RAM può utilizzare E massimo quanto RAM può utilizzare Su processore Possiamo indicare Quanti CPU virtuali Andrà a poter utilizzare la macchina Come tutti i classici software di virtualizzazione Andiamo avanti Troviamo il controller IDE Quindi la possibilità di aggiungere Eventuali unità DVD o disco rigido aggiuntive Idem per il controller escasi E la possibilità di configurare Le porte COM Possiamo far in realtà Comunicare il nostro server fisico Le porte COM fisiche del nostro server Con una macchina virtuale Tramite le pipe C'è anche un programmino Se siete interessati Ve lo posso segnalare nei commenti Che vi permette praticamente Di simulare Di far comunicare via La porta COM reale Fisica presente nel server Con la vostra macchina virtuale Vi crea praticamente Una pipe virtuale Unità dischetto Non serve Attenzione perché Se installate i sistemi operativi Linux Tipo 100S Per esempio Da un sacco di errori Se non gli date Un flop virtuale Per fare un flop virtuale Da qua fate il nuovo Disco flop Andate a metterlo Dove volete Gli date un nome E vi crea un failetto Che praticamente Potrete andare a specificare Come file Da utilizzare Come flop virtuale Ve lo faccio vedere Eccolo qua Quello che ho appena creato Con estensione VFD Virtual flop disk E applicate Lui lo va Lo va a utilizzare Come un'unità Diciamo floppy Fatelo Sistema operativi Linux Per evitare Un miliardo di errori Sulla Sulla shell Il nome della macchina Alcuni servizi Di integrazione Che vogliamo Permettere Tra il sistema operativo Guest E la macchina virtuale Attenzione In questo caso Se andate A installare Un controller Di dominio In hyper-V Non mettete La sincronizzazione Dell'ora Altrimenti Avrete un sacco Di problemi Con l'ora Quindi mi raccomando Togliete sempre La spunta La sincronizzazione Ora Nel caso In cui la macchina Sia un controller Di dominio I punti di controllo Sono una funzionalità Molto comoda Presente in hyper-V Che sono Praticamente Sono gli snapshot Quindi le immagini Del sistema Per esempio Io ho questa macchina A questo stato Se io faccio Tasto destro Faccio punto di controllo Lui Vedrete che Qui sotto Mi andrà a creare Eccolo qua Il nostro punto Di controllo Quindi è la situazione Attuale della macchina Proprio una foto Di quella che è la macchina Ora La posso andare A rinominare Per capire Per esempio Appena installato Appena Creata La VM Per esempio Se io dovessi andare Poi A fare qualcosa E dovessi ritornare Indietro Posso cliccare Qui Cliccare Applica Lui Mi ripristina La situazione Della macchina A questa Determinata Data e ora Che poi Tra l'altro Qui ho cancellato Vi consiglio Sempre ovviamente Di lasciare Data e ora Per sapere A quando State ripristinando L'azione Di avvio automatico Quindi cosa Dovrà fare Questa macchina Nel momento Nel momento in cui Il server Verrà spento Riavviato Male Oppure Perché magari Sta facendo Semplicemente Gli aggiornamenti Quindi non necessariamente Un arresto Non voluto Ti chiede Cosa deve fare Con questa macchina Se avviarla sempre Se dai un ritardo Magari O che ne so Qui 20 macchine Vorrei Ritardare L'avvio Di alcune macchine Per permettere Al sistema Di non sovraccaricarsi Oppure Se fare Se mantenere Lo stato Di com'era la macchina Al momento in cui Il server Si è spento Per cui Se questa macchina Era spenta Come ora Non verrà Riaccesa automaticamente Idem Per l'arresto Ti chiede Se il server Viene spento Direttamente Cosa devo fare Con la macchina Ne devo salvare Lo stato Quindi la ritroverai Alla recensione Allo stato Attuale Se deve spegnerla Brutalmente Oppure Se arrestare Tentare di arrestare Il sistema operativo Ovviamente Dice che il servizio Di integrazione Guest Deve essere abilitato Sulla macchina Ok Questo è più o meno Come funziona La base di funzionamento Di Hyper-V Quindi Creare una macchina virtuale Se faccio Connetti Mi fa un monitor remoto Che è quello Tra l'altro Che stiamo utilizzando Qua Vedete Questa macchina Sta girando Sul mio Windows 10 Con Hyper-V Quindi stiamo In realtà Virtualizzando Dentro Una virtualizzazione Questo Un altro discorso Ancora Potete Quindi Avete un monitor Potete andare Accendere La macchina Interagire Con la macchina Posso Inserire Unità CD Per l'installazione Appunto Dei sistema operativi Incollare Appunti Nel caso In cui Faccio un copio Incolla Non funziona Control-C Control-V Non funziona Direttamente Sul monitor Spero Spero che Questo video Vi sia piaciuto Mi ero promesso Di non fare Video Tra virgolette Semplici Perché Installare Hyper-V E creare Una macchina Virtuale Come avete visto È una procedura Praticamente Guidata Quindi non c'è Niente di strano Però Volevo Mostrarvelo Provo perché Nei prossimi video Ci tenevo A farvi vedere Uno La replica Di Hyper-V Quindi come funziona Se abbiamo Due O più Host Hyper-V Quindi Replicare Macchine virtuali Tra uno e l'altro Spostarle E seguire Un live migration Magari Oppure Bilanciare Per quanto possibile I carichi Di lavoro Per poi Arrivare In video Ancora più Più là Sul Proprio Su un cluster Quindi creiamo Un cluster Con diversi host Andiamo a fare Il balanciamento Delle macchine virtuali In maniera Completamente automatica Fino ad arrivare A parlare di IceCase NAS Sun Eccetera Eccetera Però Questo era Diciamo D'obbligo Questo passaggio Era d'obbligo Per Poi Parlarvi Del resto Se il video Vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Attivate la campanellina E mettete un mi piace